Wewe ragazzi e bentornati su KinoTV, oggi a grandissima richiesta un nuovo episodio di Salva al mondo che vorrei Episodio speciale perché oggi parleremo delle patch notes dei sogni, sigla regia Per tutti i nuovi iscritti che non sanno di cosa parla questa serie e sono interessati a sapere di cosa parla Vi lascio in descrizione il link dei precedenti episodi ma ho anche creato una playlist sul canale Comunque questa serie parla di idee di altri utenti o anche vostre, nostre, qualsiasi idea che riusciamo a mettere giù Creare un'immagine, insomma esporre al pubblico cercando di spiegarla nel migliore dei modi potrebbe finire in questa serie Non perderò tanto tempo con tante chiacchiere perché raga ho un sacco di cose da dire in questo episodio, partiamo subito Questo episodio si suddividerà su classi, quindi parleremo prima del menu, poi passeremo agli eroi, poi ai progetti e suddivideremo tutto questo per classi La prima patch notes dei sogni qual è? È ovviamente sul menu delle spedizioni Chiunque di voi faccia le spedizioni avrà notato che quando andiamo a ottenere le ricompense Se spammiamo il tasto X o il tasto del mouse quando apriamo appunto queste ricompense rimangono bloccate Ovvero dobbiamo riavviare il gioco e ottenerle di nuovo Quindi il mio consiglio è quando aprite le ricompense fate con calma Non spammate X perché impallate tutto il gioco, purtroppo è così per ora Quindi la prima patch notes degna era questa, direi 10 punti Il secondo punto invece ora ci suggerisce che potremo finalmente cambiare le armi sulla nostra armeria Quindi come vedete alle spalle della nostra bella fanciulla abbiamo un RPG, l'Aquila Calva La Fettatrice Vindertek, lo Scar Silenziato, il Frostbite che non so cosa ci fa lì in mezzo il Frostbite E il Barone Io sono molto d'accordo per l'RPG, la spada è bellissima da vedere, lo Scar Silenziato ancora ancora Però modificherei qualcosa, metterei qualcosa di più bello Tipo l'obliteratore lì al posto del Frostbite Aggiungere un background di sfondo a questa schermata qui Anche questa sarebbe un'idea carina al posto di tutti questi triangolini che Sì è lo stile di Fortnite però un bel bioma di tavolaccia dietro, un bel bioma di una città Piuttosto che della periferia, piuttosto che dello scudo antitempesta Insomma potrebbe essere anche quello davvero davvero carino Un semplice cambiamento piccolino che però andrebbe a cambiarci anche noi la nostra esperienza di gioco Passiamo alla schermata degli eroi Quindi il primo punto suggerisce che le abilità devono essere sistemate nello stesso identico slot Quindi se noi abbiamo la combinazione di tasti per la traslazione fasica per tutti gli stranieri dovrebbe essere così Ecco non è possibile fare questa cosa matematicamente però per me potrebbero aggiungere un semplice sistema di personalizzazione Che tu fai switchare le abilità in modo con quelle che ti trovi più comodo Per esempio io sono abituato che R1 e L2 faccio la traslazione fasica Mi metterei che con tutti gli stranieri avrai la traslazione fasica su questa combinazione di tasti Ci sarebbe molto come idea, ci sarebbe molto, l'avevamo già specificata in un episodio precedente L'abilità del costruttore è tornata ovvero costruire e potenziare intendevo le strutture hanno costi ridotti Bene con la patch 8.0 i costruttori non hanno più questi vantaggi Prima sì, prima il costruttore spendeva meno materiali per costruire di conseguenza meno materiali per potenziare Non tantissimi però diciamo che ti aiutava psicologicamente a fare quegli upgrade in più Però da quando hanno messo la patch 8.0 non hanno più questo vantaggio Bene, io suggerisco di farglielo tornare perché sono costruttori e hanno un nome appunto per questo Quindi invece il terzo punto, semplice semplice La torretta rosi non ha il surriscaldamento Ebbene sì raga, perché la torretta rosi dopo un tot di colpi si surriscalda Già ha pochi colpi, in più si surriscalda Togliamoli sul riscaldamento e lasciateci sparare contro gli zombie Insomma, non è che la minigun del soldato si surriscalda dopo un po' che la uso Allora perché la torretta si deve surriscaldare? Secondo me sarebbe... tanto è già nerfata Cioè, voglio dire, più di 250 colpi non puoi sparare Quindi lasciatemi la nerfata al massimo Lasciatemi sparare quei 250 colpi come voglio Tanto prima li finisco, prima finisce la torretta Quindi che senso ha farmela surriscaldare? Secondo me questo merita, merita tanto eh Dopo aver evoluto un eroe a 5 stelle Hai la possibilità di mettere l'outfit dell'eroe come una versione precedente Chiunque di voi ha notato che evolvendo qualsiasi eroe ovviamente cambia anche la skin Bene, questa patch suggerisce che noi possiamo mettere l'outfit di un livello 10, livello 20, di un livello 30 Una volta sbloccato il livello 50 dell'eroe Sarebbe figo poter cambiare... non dico cambiare tantissimo Ma dare quel tocco di personalizzazione anche alle skin su Salva al Mondo Sarebbe carino, diciamo I soldati ora possono prendere il loot usando la minigun Anche questo molto molto interessante perché chiunque di voi ha notato che utilizzando la minigun fai fuori gli zombie Passi sopra il loot che ti droppa lo zombie e non te la raccoglie Devi aspettare che finisce l'animazione della minigun Molte volte i compagni ti rubano tutto Quindi, quindi questo punto degno di nota Hai fatto un progetto in Ossidiana e lo volevi scagliabuia o viceversa? Ora tutti i progetti possono essere resettati Hai un gettone di reset che puoi ottenere spendendo i tuoi punti ricerca Ebbene sì, perché una volta arrivati ai livelli alti i punti ricerca sono praticamente inutili Gli userete soltanto per le trasformazioni appunto una volta che avrete maxato tutto E detto questo io sono d'accordo con questa idea Due nuove armi Il lanciafiamme che brucia questi zombie e ha una durata tipo il lanciarazzi Ovvero che non ha colpi ma ha una durata molto molto ridotta E la motosega, anche questa con una durata molto molto ridotta Non consuma munizioni E che dire, l'animazione la sapete già Ora c'è il punto delle trappole Questo punto ve lo espongo con la mia idea Ecco, lui ha voluto fare l'esempio di trasformare per esempio tutte le trappole da natura o da fisica in energia Secondo me questo non va bene Secondo me non va bene perché le trappole devono essere... devono rimanere così con la loro propria natura Piuttosto creare altre trappole di altre nature Questo sarebbe molto molto figo Però non vedo bene le gas di elemento energia Che senso avrebbe? Non ce le vedo proprio bene Piuttosto che le dinamo a muro non di natura Ah, non danno di natura Quindi è giusto che siano di natura Cioè, non capisco il senso di questo Io vi espongo la mia idea, eh Poi ovviamente la argomentiamo insieme nei commenti Se vi va di rispondere e di argomentare qualsiasi cosa Io vi leggo tutti, raga, lo sapete Il filtro per lo zaino, raga Il filtro per lo zaino che seleziona solo le cose a 5 stelle, 4 stelle e massimo 3 stelle E tutte le cose di rarità inferiore le lascia automaticamente in terra Questo sarebbe veramente veramente figo Perché quando vado a fare le difese scudo così non ho paura a buttarmi in mezzo alla mischia Perché droppo tutte le cose di rame, diciamo, le parti meccaniche eroginite Perché come vedete il mio zaino è molto molto curato e dettagliato Io ci tengo molto a avere anche molti spazi liberi Perché si sa facendo le storm chest dobbiamo riciclare le armi Poi tante cose Io preferisco sempre avere quelli slot liberi E accumulando roba a una stella me lo va sempre a riempire Quindi il filtro per lo zaino sarebbe un'idea veramente veramente ottima L'interfaccia utente suggerisce che nei nostri progetti si fa visualizzare la colonna per 4 Quindi ci fa vedere molti più progetti nella prima schermata Secondo me questa idea, raga, ottima Ottima Ho sempre il problema che non trovo le armi quando scendo e voglio craftarmi un'arma Mettermi 4 colonne mi semplificherebbe veramente veramente la vita Specie quando sono in missione ho bisogno di craftarmi il lanciarazzi al volo Collezionare il blab ora te lo metterebbe qua Precisamente tra il metallo e il raggio solare Perché come voi ben sapete ogni volta dobbiamo scrollare tutto lo zaino in basso, in basso, in basso, in basso E lo trovate qui più o meno dopo il quarzo se non mi sbaglio Tra il quarzo e la roba varia Ecco, questa idea suggerisce di spostare quando troviamo il blab qui Tanto che fastidio da uno slot di blab Ma per me addirittura come primo Così l'Epic non può sbagliarsi coi codici Meglio non rischiare, raga Probabilità di critico, ovvero livello critico e danno critico Sono inclusi nel danno per secondo Perché ora come ben sapete il danno per secondo va a svantaggio delle armi percate in critico Ma ciò non ha importanza sull'effettività dell'arma Però questa idea suggerisce che effettivamente il danno per secondo mostra veramente quanto fa il danno per secondo anche col livello critico e danno critico Perché così almeno non confondono le idee per i nuovi arrivati, diciamo I compagni appariranno di diversi colori nella minimappa Ora i modificatori delle missioni Ebbene sì Uno suggerisce che andando a giocare in compagnia appunto spunterà una quarta voce che ci suggerisce di andare ad aiutare qualcuno nella difesa scudo Finora questo non è possibile, per me sarebbe un'ottima, ottima idea anche per tutte le persone che hanno bisogno di aiuto Qui aggiungere una semplice scritta che il matchmaking di gioca in compagnia si baserà esclusivamente su una difesa scudo Secondo me l'Epic dovrebbe implementare questo, anzi avrebbe già dovuto farlo da tempo Aggiungere le risorse ottenute durante la missione nella schermata finale dei risultati Così riesce a tenere traccia delle risorse appunto che hai farmato in quella missione Ci sarebbe secondo me come idea E se l'Epic sarebbe capace di tenere traccia, cioè già lo fa Se nel nostro zaino le cose rimangono vuol dire che già tengono traccia nei loro server delle cose che noi farmiamo Se riesce anche a mostrarle nella schermata finale sarebbe un'ottima idea secondo me Questa opzione addirittura ti consentirebbe di vedere questa missione precisamente quella massima al 100 Quanti pieroe in questo caso mi dà Perché c'è un calcolo 4 per i pieroe e chi è a livello basso magari non lo sa Non lo so nemmeno io che sono a livello 131 Effettivamente quanto sia la paga per 1 Figuriamoci per 4 Ecco questa opzione suggerisce che ti fa vedere apposto che questo 4 per pieroe è direttamente la ricompensa Ovvero quanto sarà 300.000 pieroe e 240.000 cavalca al fulmine Non lo so eh adesso spara una cifra a caso Ci fa vedere direttamente quella cifra Che poi durante il weekend alzino le ricompense eccetera eccetera Quella è una storia a parte Ora puoi visualizzare il numero delle allerte direttamente dal gioco Non più dovendo aprire un'altra schermata Che questa secondo me va aggiunta Perché non è giusto che io debba aprire un sito esterno per controllare quante allerte ho sul gioco Cioè se riesce a farlo in un sito esterno perché l'epic non riesce Mettetemi una schermatina lì mi dice numero allerte rimaste 4 E datemi la possibilità soprattutto di togliere l'allerta In questo caso io lo lascerei Ma se ci spostiamo per esempio se 84.000 pieroe superstiti a me non servono a nulla Toglierei l'allerta e mi salverei appunto un'allerta per un'allerta più soddisfacente diciamo Ora siamo arrivati alle varie Possiamo collezionare quanti stack di proiettili vogliamo Ovvero se possiamo tenerne 6.000 leggeri Possiamo collezionarne altri 6.000 leggeri altri 6.000 leggeri ancora Senza dover ogni volta ad andarli a mettere nel deposito Ci starebbe come idea anche se ci starebbe secondo me aumentare ancora di più tutti i proiettili che è possibile tenere e basta Abbassarsi su salva al mondo Questo degno di nota raga assolutamente Tutti i materiali a sestelle rimossi non ce n'è bisogno secondo me E le mods su salva al mondo Le mods su salva al mondo già sappiamo che verranno introdotte quindi non ha senso introdurlo in questo video Ora siamo arrivati alle idee varie Ovvero L'onda d'urto ora butta giù gli zombie col frigorifero in mano Il bombardamento aereo ora lascia una scia di fuoco sul pavimento Persistente simile molto molto simile al lanciatore quadruplo I superstiti che non riesce a salvare ora diventano mini boss Ecco questo forse ci incrementerebbe l'idea di volerli salvare tutti Perché molte volte li schippiamo Gli stranieri possono fare la traslazione fasica attraverso le costruzioni Cioè attraverso i muri della mappa La carica del costruttore ora dovrebbe investire anche gli zombie col frigorifero in mano E infine un po' di idee per esempio per il vote kick Per cambiare il nome della casa base E altre idee carine che terrò anche per il prossimo episodio Raga se a voi è piaciuto questo episodio vi invito a lasciare solamente un bel like E farmi sapere sempre come al solito con un commento cosa ve ne è sembrato Io per oggi smetto di stressarvi Ci vediamo domani con un nuovissimo episodio Bella bella Ciao Ciao